ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco mandorle dolci a cosa serve mandorle dolci a un parafarmaco appartenente alla categoria degli fitoterapici droghe erboristiche e derivati è commercializzato in italia dall'azienda specchia srl informazioni commerciali titolare specchia sol srl concessionario specchia sol srl categoria di appartenenza fitoterapici droghe erboristiche e derivati confezioni mandorle dolci mandorle dolci olio alimentare 170 ml indicazioni l'olio di mandorle dolci specchia sol a un olio vegetale naturale ricco di vitamine naturale puro pressato a freddo senza solventi dei semi maturi del mandorlo il suo uso alimentare a noto sia da solo sia miscelato con altri oli la vitamina ea nota per la sua azione antiossidante descrizione e caratteristiche curiosità la tradizione popolare definisce l'olio di mandorle ideale anche per uso cosmetico per la prevenzione e il trattamento di inestetismi cutanei come smagliature e per rendere la pelle morbida ed elastica avvertenze tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni non superare la dose giornaliera consigliata gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita componenti e ingredienti frazione oleosa di semi maturi di mandorlo prunus amigdalus var dulcis estratta mediante pressione a freddo vitamine naturale analisi media per 100 g per 3 cucchiaini valore energetico calchi 892 4 3733 9 89 2 373 4 protidi g 0 e 36 0 e 04 glucidi g assenti assenti lipidi g 99 9 9 vitamina e mg 33 30 per cento da fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato